Ti piace? Che vuoi? Che voglio? Che vuoi? Ti piace? A casa? Io dormo vestita, ti avverto, eh? Che fa papà? Eh? Un altro figlio? E lì? Vieni a mangiare! È pronto? Non lo so, non mi sento bene. C'è qualcosa che non va. Mi l'ho spaventata. È lì! È lì! Sto cercando una signora bionda, per caso è passata di qua. Mi puoi ascoltare un momento? Qui va tutto male. Ti ascolto, sì. Sei tu che vuoi guastare tutto! Perché ci hai portato qui? Per noi due. Ho paura. C'è lì? Ci sia questo che vuoi. Grazie.